e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video è un video come avete capito da titolo sugli acquisti che ho fatto su passione unghie nel mese di marzo quindi sono le novità non ci ho fatto a prendere due colori gli ultimi due colori delle novità però se non l'ho presi tutti insomma allora cominciamo subito è già è venuto questa mattina al corriere già lo spacchettato perché sapete che comunque i colori poi li stendo su tip così poi ve li faccio vedere sia nel barattolino che che sono a tip insomma si vede un po scurito scusatemi adesso cerco di abito cusci e non fa vabbè pazienza la luce allora mi vedete col giubbietto perché sto morendo di freddo quindi mi sono messo un attimo allora cominciamo subito con immagino eccolo qua prima davano le caviar lì le bubbles come le vogliamo chiamare e adesso hanno cambiato carinissime queste le paillettuzze vedete il paillettuzze eccole qua belline il colore è sul verde insomma pare su un verde acqua poi c'è stato qualche riflesso blu riflessino blu molto carine ancora qua sempre graditi i gli immagini di può grazie mille perché non tutte le ditte o brand insomma ti mandano gli immagini quindi sono molto carini loro che li mandano allora questo è uno ne immagino allora passiamo ai water decollo preso ne ho presi tre quelli che mi piacevano di più allora preso questo qui mi piace molto che è in 3d questo qui il codice oddio dove c'è scritto a eccolo qua 3d 34 adesso vi dico anche quanto l'ho pagato allora questo qui l'ho pagato 2 euro e 49 questo 2 euro e 49 e questo è uno poi anche questo qui che è in 3d questo è 3d 35 il numerino eccolo qua come vedete questo pure 2 euro e 49 insieme a questo eccolo qua bellissimo sempre sulle roselline fatto in questo modo tanto che volevo prendere di guarda visto che ci sono li prendo questo e poi l'ultimo water decollo deciso di prendere questi altri fiori qui un po astratte diciamo molto bello che ls 59 questo qui invece l'ho pagato 1 euro 99 perché se vede non costa nemmeno perché non è in 3d penso credo questi qua e quindi ho preso questi tre water decoll poi poi ho preso la base alfa che mi serviva c'è ce l'ho ancora però dico ne prendo un'altra per sicurezza se prima che mi finisce scusate se ti toccare a bagliari e di fuori allora la base alfa molto carina che adesso comunque le fanno in queste boccite qui come quelli di semi permanente mi piace veramente tanto se no io c'ho ancora questa boccetta qua vecchia se non la faccio vedere un attimo solo allora ce l'ho in questo modo qua in questo modo qui sì qui c'è scritto nel prep ma se sono sbagliati invece la base alfa lasciate perdere la scritta comunque la base alfa ce l'ho ancora in questa barattolino qua adesso ne è cambiato l'hanno messero così oppure la mettono propri barattoli come quelli di gel però mi pare che adesso lo fanno in questo modo che meglio pennellino e ce l'avevo così insomma già ce l'ho così qui la base alfa vediamo un attimo come un po liquidina come quell'altra più o meno ho notato che su questi barattolini qua comunque sono più densi pare no vabbè liquidina questa perfetto quindi la base alfa un'altra ce l'abbiamo per sicurezza allora la base alfa invece l'ho pagata 8 euro e 99 poi ho preso l'olio cuticole bellissime adesso gli olio cuticole che fa nel loro ve lo prende frenesia fresia no frenesia fresia mi pare se non ero che si chiama però non ci ho pensato alla fine ho preso ananas vabbè l'ho visto dopo però uguale guardate quanto è carine le boccette ho voluto prendere questa perché era rosa mi piaceva questo è col contagocce diciamo fate olio cuticole ananas e infatti vedete è così col contagocce e sa proprio di ananas l'odore non ve lo so descrivere ah ecco qui si preme apposta io premevo qua invece no qui fai così vedete premete qua il cappuccetto questo qui diciamo fate così esce tutto il prodotto insomma figata poi questo è molto comodo insomma ed è bellissima proprio allora l'olio cuticole invece l'ho pagato 4 euro e 99 poi poi ho preso il famosissimo soft touch alleluia ce l'ho fatta non ci credo da 15 ml intanto vi dico il prezzo allora il soft touch l'ho pagato 9 euro e 99 adesso ve lo faccio anche vedere allora intanto questo è portato troviamo questa che io le sbrego tutte che sono mica ce la faccio se ci riesco vabbè lo faccio dopo insomma che lo tacchiamo qua sopra allora eccolo qua il soft touch sigillante acidi free e non vedo l'oro di utilizzarlo soprattutto sui colori nuovi liquido liquido aspettate comunque avete visti liquidino adesso non lo sto a far vedere però comunque è bello vedete dallo liquido vedete come cola è bellissimo e non vedo l'ora di provarlo su qualche colore insomma credo che comunque colore sarebbero da stenderli proprio bene alla perfezione che se no non credo che venga più di tanto qui l'ho sporcato prendo un pezzo di questo scusate io casini come solito perché se no non sono contenta ok questo è il soft touch quindi questo l'ho pagato 9 euro 99 e non vedo l'ora di utilizzarlo questi comunque sono tutti prodotti nel mese di marzo nuovo insomma soft touch sono contentissima che bellezza poi che non volevo provare però l'ho preso solo da 15 ml adesso per provarlo i milky builder questo qui nuovo da 15 ml il milky builder l'ho pagato 9 euro 99 anche come il soft touch lo volevo provare questo costruttore trifasico questo devo dire come mi ci trovavo apposta l'ho preso da 15 ml che è andato a volte non ci trovo bene dopo la 50 wow bellissimo figata è proprio bianco bianco po credo anche lunghi a far leggermente si bianco questo proprio denso denso vedete ne manco cola cioè densissimo proprio figata non vedo l'ora di provarlo poi comunque vi dirò come mi ci sono trovata e mickey builder mi pare sì anche 9 euro 99 ve l'ho detto e vi dico l'ho provato l'ho preso da 15 ml perché volevo provare testare per vedere lo proverò su di me vedrò come mi ci trovo e vedremo poi quando sarà che dovrò far refi e vediamo un attimo come mi ci trovo poi vi dirò insomma ecco questi qui ricordatevi sempre non li buttate via che servono apposta per metterlo qui sopra il tappino al barattolino così vi regolate senza che state tirassù il prodotto per vedere quella scritta l'avete direttamente qua insomma quindi mi raccomando non buttatevi dopo io lo levo e lo metto poi ho preso il gel colla il famosissimo gel colla gel senza dispersione allora il gel colla l'ho pagato 5 euro 99 tipo come i colori diciamo per applicare i svaroschi strassi brillantini queste cose qua e sperando tutti dicono che si trovano bene con questo gel colla che comunque i brantini noi zompano e perché li attacco con lucido però dopo qualche giorno mezzo un pane eccolo qua è trasparentino volvo detto bianco proprio spara flashato invece no ma sul giallogno lo pare bianco scuro e vediamo un po se anche questo fa il suo lavoro poi comunque proverò tutto poi vi dirò come ci sono trovato il gel colla avevo detto il prezzo 65 99 allora di queste cosine qua insomma vi ho fatto vedere tutto adesso passiamo ai colori allora come colore ho preso il royal blue che è il fast f31 ed è questo qua senza fare casino eccolo qua come lo vedete in telecamera è anche praticamente dal vivo dal vivo è leggermente un po più chiarino diciamo molto bello come questi blu così mi piacciono veramente tanto allora il royal blue è questo qua su tip eccolo qua guardate è bellissimo scusate per la luce che vedete un po scuretto proprio qua scusate questo qui è royal blue bellissimo cioè stupendo proprio questo è uno poi abbiamo wonderland chic a 118 il colore il secondo color allora era due colori della nuova collezione di marzo che non ricordo che non ho preso perché erano scaduti erano finiti e volevo prendere il colore quello di passione proprio il colore uguale a questo peccato era finito e pazienza sul prossimo ordine che farò ordino con l'altro colore mi ricordo come si chiama ordinerò subito questi altri due colori sperando di trovarli tanto dopo le persone pensano a prendere quelle robe d'aprile quindi cioè dovrebbe essere in teoria allora wonder da linea chic a 118 e questo bellissimo lilla allora videocamera tanto chiaro invece dal video dal vivo è leggermente po più scuro non di tanto però color pastello bellissimo allora wonderland royal blue l'ho detto royal blue e fast f31 a wonder la chic a 118 e wonderland adesso ve lo prendo ed è questo qua bellissimo molto belli questi colori devo imparare a stenderli bene soprattutto questi qui come si chiamano questi qui pastello perché sono un po complicati da stenderli comunque questo bellissimo colori ve li metto qua va poi adesso c'è il colore ciclamino questo qui non è della collezione di marzo e classic c 90 ma lo volevo da tanto e mi piaceva tanto con water the call stupendo che ci sta bene credo che con water the call come questo qua ci starebbe proprio bene sull'anulare questo colore qui ciclamino che è veramente stupendo è uguale come lo vedete anche di persona c'è comunque alla fine uguale il colore e credo che sono come questi c'è stato che vedete anche qui c'è tipo rosa credo che ci starebbe bene un bel po a ciclamino a classic c 90 ve l'ho detto ed è questo qui bellissimo eccolo qua ciclamino ciclamino poi abbiamo zoe che le classiche c 113 questo pure è un rosa pastello che va su lilla diciamo c'è un rosa un lilla mischiato credo oppure un rosa antico ma chiaro chiaro c'è bellissimo questo zoe è questo qua eccolo qui anche questo molto bello zoe poi abbiamo memories che è il chic a 120 ce facevo a dirlo ed è questo colore qua questo pure che è scappato in sacco di viola praticamente dei colori nuovi sui lilla così come le vedete videocamera lo vedete anche di persona uguale forse leggermente un po più chiaro ma è poco bellissimo questo violetto diciamo lilla allora memories è questo qua stupendo anche questo modo molto molto bello poi abbiamo ultraviolet il famoso ultraviolet classiche c 112 amanti tutti di ultraviolet ho visto su passioni unghie soprattutto con i soft touch molto bello classiche c 112 ed eccolo qua il famosissimo ultraviolet allora voi lo vedete blu non rende per niente ma invece è un viola lo vedete tanto scuro ma pare blu praticamente pare il royal blu ma invece non è così non so come farvelo vedere niente peccato che non rende per niente peccato che non rende il videocamera non so mai il perché sporchiamoci tutti ma sì che vuoi che sia allora ultraviolet è questo qua ma ripeto voi lo vedete blu ma è un viola peccato lo vedrete così vabbè poi abbiamo eden che è lo chic a 123 questo molto bello eden proprio cielo così dopo c'è da girarli comunque pure questo color pastello voi lo vedete più celeste ma più chiaro va su un verdolino tipo bellissimo gesto anche allora eden questo qua comunque il prossimo questo che farò sarà tutti gel glitter però glitterati perché mi servono veramente tipo quelli flash da passioni unghievo e prendere a cercare di prenderli tutti perché mi serve veramente che glitter di un gel che non è passione unghie da un'altra marca purtroppo mi stava finendo tutti e quindi non ce l'ho più quindi devo prendere tutte quelle da linea e passione unghie del flash i gel colorati quelli brillantinati flash allora freedom abbiamo che è chic a 121 che è il penultimo colore questo pure molto bello si stende che è una meraviglia anche questo questo pure c'è da mischiarlo è venuto un po' tutti immaccati questi colori vedete tutti i cuscini era venuti prove questo pure pare su un rosa corallo boh non lo so è leggermente un po' più scuro voi lo vedete più chiaro ma è un po' più scuro allora freedom è questo qua questo rosato bello poi l'ultimo colore è acqua marina che questo quello brillantinato bellissimo che appena ho visto mi sono innamorata classiche g16 ragazzi questo stupendo proprio pare come quelli flash voi lo vedete proprio quasi solo blu invece leggermente più chiaro e più celestino bellissimo ed è questa qui acqua marina bellissimo tanto spettacolo bello e niente ragazzi questi qui erano tutti i prodotti che ho acquistato su passioni unghie soprattutto cioè del mese di marzo ho preso ecco i colori mickey builder insomma tutte queste cosine qua del mese di marzo insomma delle novità del mese di marzo questi sono i colori a parte mi pare royale blu che non era nel mese di marzo mica mi ricordo però comunque il resto tutti tranne acqua marina mi pare mi ricordo a parte che manca l'altro colore passione proprio per pazienza comunque ok io spero che questo acquisto che avevo fatto vi sia stato utile anche per i prossimi acquisti che volete fare su passioni unghie perché questa su passioni unghie se il video vi è piaciuto mettete pollice in su sotto al video se volete commentatemi e noi ci vediamo presto al prossimo video ciao 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 ciao